Una finestra sulla provincia di Roma, un portale internet innovativo, moderno e interattivo, con icone stile iPad, immagini fotografiche e video. È Roma e più il nuovo modo di scoprire le bellezze del territorio romano. Il sito, anche in inglese e presto consultabile in francese e cinese, vuol far conoscere l'intera offerta turistica, culturale e denogastronomica della provincia, gli itinerari più affascinanti, i monumenti, i borghi storici, le produzioni agricole e artigianali. Il presidente Zingaretti ha presentato il portale ai cittadini di Riano e di Lanuvio. Noi abbiamo una ricchezza incredibile fatta di storia, di arte, di cultura, di archeologia, di sagre, di prodotti denogastronomici. Roma e più è un nuovo marchio che vuole promuovere le eccellenze intorno a Roma. Per ora è un sito, sarà anche un po' il logo che accompagnerà iniziative di promozione dentro i giornali e nelle campagne che faremo nei prossimi mesi. Ci rivolgiamo alle prologo, alle associazioni, ai tuoi cooperatori, ai sindaci per chi siano i protagonisti e utilizzino questo marchio. Zingaretti nei prossimi giorni sarà anche a Castelmadama per mostrare ai cittadini le opportunità che il sito offre nella valorizzazione dei comuni della provincia.